3 raccomandazioni. 4 novembre 1977. Figli tanto cari al mio cuore, siate benedetti. Ecco, siete qui con la mamma celeste, che vuol darvi la buona notte prima che andiate a riposare, proprio come fanno le buone mamme coi loro figli affezionati, e, mentre vi auguro ogni bene e vi benedico, perché gli auguri diventino una realtà, vi dico una buona parola, vi do qualche consiglio. Voglio vedervi sempre sereni, voglio che non venda mai meno in voi la fiducia, e vi voglio infaticabili nel fare il bene. Ecco il mio suggerimento. E vi do anche un consiglio, perché la serenità sia come la conseguenza di qualche cosa che viene dall'interno. Vi dico perciò, siate umili, se volete essere sereni. Il grande santo della diocese ambrosiana, che oggi la chiesa onora, San Carlo, aveva posto come suo stemma particolare la parola humilitas, che vuol dire umiltà, e alla pratica dell'umiltà dedicava tutte le sue forze. Così potevate vederlo andare alla ricerca dei poveri e aiutarli in tutti i modi, fino a privarsi non solo del superfluo, ma anche del necessario per andare incontro ai loro bisogni, fino a mettersi veramente col popolo e divenire come un fedele qualunque, pur di far capire, nella pratica, il Vangelo di Gesù. L'umiltà lo rendeva gioioso, anche quando le calunnie più gravi lo colpivano anche da parte di confratelli e di prelati. L'umiltà è veramente fonte di gioia e, se voi mi ascolterete e trarrete profitto da questi insegnamenti, vi persuaderete della bellezza di questa virtù, che vi renderà indifferenti alle diverse situazioni della vita, per quanto incresciose, per farvi gustare la gioia di essere nelle braccia di Dio, perché veramente piccoli. La seconda raccomandazione è quella di essere fiduciosi. Figli, se credete in Dio, non può venir meno la vostra fiducia. Non è una persona qualunque, a cui vi affidate, che potrebbe tradirvi, dimenticarvi, o non beneficarvi, se siete nel bisogno. È un Dio che, avendo al grado infinito tutte le virtù, non può venir meno né ai suoi impegni, né alle promesse. Dio è anzitutto amore, e questo amore che si identifica con Lui non può venir meno. Se i figli sono buoni, sono amati, e, se sono ingrati e cattivi, non sono da Lui abbandonati a se stessi, ma sono, per così dire, perseguitati da Lui perché abbiano a ritornare al suo cuore. Dio vuole solo il bene delle sue creature e la loro felicità. Chi scopre questa verità, trova la pace, e nessuna cosa può turbare la sua vita. Quando si sa di essere in buone mani, nessuna cosa fa paura. Così dovete essere voi. Non temete, non angosciatevi. Nemmeno la morte vi deve spaventare. È solo necessario cercare in ogni momento della giornata la santa volontà di Dio, che si identifica col proprio dovere, per mantenere una serenità ed una fiducia che non subiscano mutamenti. La terza virtù che vi raccomando è l'infaticabilità. Se pensate all'eternità, in cui non avrete che da riposare in Dio, e ai pochi anni che state trascorrendo, in cui dovete produrre frutti di bene, voi trovate certamente giusto che non si debba perdere nemmeno un attimo di tempo. Ancora San Carlo vi viene proposto come modello. Potete veramente chiamarlo infaticabile, sia per l'apostolato compiuto nelle mirabili opere che fece maturare nella Diocesi, come per le innumerevoli visite che egli compì, certamente non coi mezzi moderni di trasporto, in ogni anche piccolissimo paese, dove riteneva che la visita del padre potesse fare del bene. Un'opera però, a cui diede particolare impulso, fu l'insegnamento religioso proposto nelle chiese e negli oratori. Voleva che i suoi figli fossero istruiti, perché potessero combattere le eresie che sempre più numerose si introducevano specie nell'Alta Italia. Questo è ancora il vostro incarico e, mentre affido a San Carlo un compito di protezione della vostra missione, applaudo a coloro che lo svolgono, perché ancora molte eresie e false religioni minacciano di distruggere la verità e di inquinare le acque salutari che dissetano i figli di Dio. Ora veramente vi ripeto, buonanotte, e vi mando i miei angeli perché, ricompensandovi del sacrificio che avete fatto per mio amore, vi custodiscano nel sonno e lo rendano tranquillo. A coloro che portano il nome di Carlo, dono una grazia particolare che li aiuti ad imitare il loro santo protettore. Arrivederci, figli, vi aiuto e vi benedico ancora.